Mentre la Chiesa delle Anime Santi ad ottobre riaprirà i battenti, dopo un bellissimo restauro per la Cattedrale di San Massimo, conosciuta come il Duomo, mancano ancora troppi e tantissimi tasselli. A nove anni da zisma la Cattedrale rimane soltanto messa in sicurezza, ma niente lavori neanche appaltata. Lavori di messa in sicurezza che sono stati fatti soltanto per effettuare quelli dell'aggregato che sono invece iniziati. L'auspicio di Monsignor Petrocchi è anche che questi lavori possano iniziare per riconsegnare alla città un altro dei suoi simboli. Per quanto riguarda il Duomo io spero che le attuali procedure che avanzano con qualche fatica possano essere rapidizzate in modo da raggiungere velocemente l'obiettivo che consenta la conclusione di tutta la fase di apprestamento del cantiere e l'inizio dei lavori. Mi auguro di poter gioire anche di quest'altro evento a breve.